Spesso mi chiedo a cosa serve un governo? Se un governo non serve a dare risposte ai disoccupati, per esempio facendo un piano per il lavoro, se un governo non serve a diminuire la pressione fiscale su chi paga già le tasse, come i lavoratori dipendenti e pensionati, se un governo non serve a dare diritti a chi non ce li ha, come nel caso per esempio degli omosessuali che non hanno diritto a sposarsi, come nel caso di quelle persone che vengono nel nostro Paese e sono ancora chiamate clandestine, come quelle persone che vorrebbero una procreazione medicalmente assistita, se non serve a dare risposte un governo non merita la fiducia, merita l'opposizione ed è per questo motivo che Sinistra Ecologia e Libertà ha scelto di stare all'opposizione, perché noi siamo per investire nella parte migliore dell'Italia e non per anestetizzare questa politica e dare in questo modo strumenti a chi vive del rancore, a chi cavalca la protesta populista, a chi incita come fa Grillo, addirittura la disobbedienza ai vertici dei carabinieri rispetto a quelli che sono i loro doveri istituzionali. Noi siamo per lottare per l'uguaglianza, per la dignità delle persone ed è per questo motivo che noi la fiducia ad un governicchio del genere non la daremo mai, lo diciamo anche a Letta per 4 voti ad Alfano, non si cambia in questo modo la prospettiva di un possibile miglioramento del nostro Paese, non si fa.